Verde pubblico e manutenzioni, qualcosa non è andato secondo il consigliere uscente Ivan Verzilli e candidato consigliere. Assolutamente sì, è quello che abbiamo detto e ribadito in questi cinque anni di minoranza, di opposizione, dove abbiamo proposto soluzioni concrete a partire dalla gestione del verde pubblico fino ad arrivare alle manutenzioni ordinarie dei beni strumentali dell'ente comune. In realtà abbiamo avuto un'amministrazione che non si è preoccupata di realizzare una visione attraverso anche strumenti operativi semplificatori e ha fatto ricorso solo ed esclusivamente ad affidamenti diretti. Questo non ha permesso al comune di dare risposte puntuali a tutto il territorio. Noi riteniamo che il grande territorio, oltre 152 km2 del comune di Teramo, i problemi di questo territorio possano essere affrontati solo ed esclusivamente attraverso una squadra di manutentori e quindi dipendenti diretti del comune che si dividano il territorio attraverso quattro quadranti, così che ogni comune può fare interventi di prossimità e vicinanza alla cittadinanza. In ottica globale i servizi, le soluzioni messe in campo sono pagliative e non sono state affrontate con il decisionismo che ritenevamo sicuramente meritassero di attenzione.